E ragazzi io sono Feriniti E io sono Sefe e questo oggi chiamo Hyper Diapers Ma prima di iniziare un botto di like se ci potete vedere spesso anche in questo canale In questa postazione fare giochini super divertenti, bellini e carini Pazzo, chiaramente pazzo Dicevo, fateci sapere Ho capito che sei felice, ma calma Noi siamo stra felici di fare un po' i giochini, di farli così abbastanza vicini Quest'oggi dobbiamo giocare un gioco molto semplice a fare, cioè teoricamente molto semplice Abbiamo un genitore, ok, con la mammina Che fanno dei figlioletti E noi dobbiamo gestire questi figlioletti al posto loro Perché? Il problema è che loro ne suonano uno ogni 15 secondi, ok? E che questi figlioletti, un po' come su Wizardeddy Cercano in tutti i modi di farsi del male in tutta la casa Piano piano si sblocchano altre partite da casa E questi figlioletti incendono ovunque Ma la soluzione? Diamo fuoco a tutta la famiglia? No, 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 perché se muoiono tre figlioletti Ok, se vanno a capo tre figlioletti, hai perso Ma perché ci devo pensare io se questi qua fanno 50.000 figli al secondo, Stef? Stai a vedere, stai a vedere Ok, ho già capito il tipo di gioco che è, non lo so Di quelli che fanno impazzire Ok, salve Questa è la famigliola Questa è la casa, tipo qua la porta al momento è chiusa Qua la porta al momento è chiusa e così via Il primo figlioletto è uscito ed è lui Ok, ciao Si può dare la tastiera? No, ok, la tastiera non si usa È soltanto tutto con mouse Ok E noi siamo qua Sì figlioletto, vieni, vieni, ok Uno e due Iniziano a diventare vivaci quando diventano tanti Perché giustamente giocano Eccolo qua Oh, oh, oh Sì, sì, sì Si è buttato nel congelatore, Stef? Nel freezer, Fara, sì Cioè si è buttato lì dentro È solo l'inizio Guarda Abbiamo capito che tu sei il vandolo della casa Oh, ma che Ma come fate a saltare così tanto? Bigliacchi Allora, questo va nella pattumiera Stef, sta morendo nella pattumiera? L'altro sta per prendere la scossa E l'hai messo nel freezer Sta a posto Stanno bene? Ho bisogno di nascondere un attimo questo Ma possono stare nella pattumiera? Cioè cosa vuol dire? Perché non è morto? Si, nella pattumiera lo metti proprio per tenerlo fermo Ma che gioco è? Non lo so Ma che gioco è che mettiti i bambini in una pattumiera? Ma noi non dobbiamo giudicare No Capisci? Capisci? Qual è il problema? Stef, quello è nato coi baffi È bellino Non so come possa nascere un bambino Stef, allora questo è il cagione Io vi sto odiando Io direi di buttarlo fuori dalla finestra È il peggiore Stef, quello Eh, lo vedi? È sempre quello con la faccina che sembra carino Ma in realtà è peggiore No Si è sbloccata una nuova parte Io qua li posso anche mettere a dormire, vedi? Ok, così sta un attimo Per mandargli K.O Tu esci dal freezer Bigliacchi E dicevo, posso metterli anche a dormire Perché non è sempre una K.O Ma il problema è che possono andare su internet E su internet fanno cose brutte Quindi anche al pc non li posso far restare Capisci? Stef, uno è nel forno Ok, tutto a posto Uno è nel freezer Ma che problemi avete? Uno è nuovo nel forno Ma che problemi avete? Internet Frigorifero, non problema Quello lì sopra è agitatissimo Stefano, è un estremotivo, lo vedi? I nostri figli... Fallo scendere Ho messo una pattumiera Così in parte Se la domanda da fare le fa alla pattumiera Dicevo, nel mentre I nostri figlioletti sono diventati 12 Quindi sta iniziando a diventare abbastanza difficile Come puoi vedere Anche perché... I genitori non fanno niente No, no Cioè dobbiamo stare... Loro continuano a suonarne Se tu continui a riuscire a gestirli Questi te fanno 50 Infatti è un gioco basato sul record Io in questo momento sono a 13 Ok Capito? È di quei giochi dove cerchi di fare il punteggio più alto possibile Ok E i genitori non ne frega nulla Il problema è che fra poco si apre questa porta E si formano altri problemi Ok Ci sono di nuovo quelli che sono nello scaffale Col punto esclamativo Non so perché No, no Preoccupati solo se cercano di fare qualcosa di brutto Ok Quindi per adesso dobbiamo controllare pc, forno e freezer Fini Ok 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 Ci sono, ci sono Cioè tutto il resto conta ben poco francamente Ok, perfetto Mi sa che a 15 Forno, forno Si apre questa porta E quindi E ci siamo Siamo a 15 Lo so Internet Il problema Maledetti Capisci bene Forno, Steph Capisci bene che ci sono problemi ovunque No, vi prego Ma si è aperta anche la stanza di sopra? Sì No Vedi i punti esclamativi? Eh Non ci capisco più niente Eh A parte quelli che stanno saltellando su una mensola Ma li lasciare lì Perché almeno si stanno divertendo E non stanno rompendo le scate Qua non so cosa c'è di problematico Forse l'acqua La vasca Sì Penso proprio di sì Forno, 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 forno Grande Freezer Di sicuro internet Altro forno Altro forno Altro forno Perché gli piace andare nel forno? Lavatrice Qui non vanno Qui non vanno Ma sembra ancora chiusa quella stanza L'ho presa all'ultimo L'hai vista? Sì Sì Mi fa malissimo Il braccio del mouse Perché? Non lo so Perché è faticoso E poi sono tutto storto E poi questi bambini Sono dei demoni Ok Ok Freezer La bravi Io controllo sempre il bagno Perché non so No certo Quando inizia ad aprirsi Non lo sappiamo neanche quando si apre Quello è il problema Bigliacco Tu vai via Lanciato Esatto Il forno Steph Il forno C'è uno che si sta cuocendo Grande Qui è più veloce adesso il timer Hai visto? Quanto è più veloce? Ah ma uno c'è morto Non è morto Non so come Non so dove Steph Forno e freezer Ne è morto un altro Forno e freezer Forno e freezer Ok Lavatrice È delirante Sto gioco È impossibile Ok Ok forno Freezer Tanto controlli sempre Qui è aperto No 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 Siamo di nuovo a 24 C'è la culla Che sta per cadere Dall'altra parte Non penso sia molto sicura lì Dici? Non lo so Ma non penso Che ci possiamo fare qualcosa Secondo me ce ne frega poco Certo Ok Va bene Ma come fai? Va bene Mi piace molto Feretti giuro Il mio avambraccio è morto È come due bambini Sì Ma che all'ultimo abbiamo aperto Era orribile questa Ferre No ma sono morti 26 si è aperta Lo sapevo Via Niente bagni L'hai messo nel mobile Nel mobile Eh vabbè Sì sì No 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 Se li metti tu Vuol dire che è un po' serve Puoi metterli per mandarli Ah ok Per farli stare buoni Esatto Per farli stare buoni Ok Amatrice Abbiamo perso con qualcuno Nella vasca Ahia Peccato Peccato No non tocca a me Dai Mi vuoi fare Il papà Ha fatto 27 punti Adesso vediamo la mamma 5 È papà versus mamma Vi giuro Che mi fa male Tutto l'avambraccio Qua Anche perché poi Ero tutto storto Perché ovviamente Cioè le tuevo nel forno Come lo avevo Così Maledetto Ma non mi avevi detto Che quando sono in due Fanno da bravi Io non ci stavo guardando E me lo trovo nel forno Steph È nato un po' Come questo Con la faccia Beh sì Non sta benissimo Non sta benissimo 15 porta aperta Ok Possono andare solo Nella lavatrice Quindi è facile Ricordati Non andare verso sinistra A controllare Un altro di nuovo Nel freezer Ma dai Da te erano sempre nel forno Infatti ti sta andando Bene Fai re veloce Mettila a dormire Nella culla Vai 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 Non mi sembra Più funzionato Però vabbè Non lo so Secondo me Metti questo a dormire Che sta facendo ricerche Non va bene Ok Perfetto 6 a 17 Te ne mancano 10 C'è una fila per il freezer E basta Lavatrice ok E arriva su internet Al volo 10 E hai fatto il mio stesso punteggio Basta vai Non me lo dire Non mi piacciono Queste cose di competizione Mi mettono ansia Sì ma è mamma Avesse il papà Stai zitto No io fari schifo Quindi no 18 Odio i figli Odio i bambini Non me frega nulla Basta In questo gioco li odio Quindi Ok Quello a dormire Secondo me ti coni Vabbè ci torni dopo Freezer Lavatrice Va a dormire vai Non penso funzioni Come posto per dormire Però so che c'è qualcuno Su internet Esatto Mi stavi rubando la connessione Vero Eh lo sentivo che mi stai facendo laggare Il wifi Lo sentivo che qualcuno mi faceva laggare Nei giochi Di nuovo Sono andando bene Ricontrata la lavatrice Esatto Di nuovo freezer Ok Internet Ovviamente Guardali Bellocissima di nuovo Schifosi Maledetti Ok 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 Perfetto Basta Perfetto Internet Non ce la faccio più Ok Non ce la faccio più Vai 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 Ok Respira Forno 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 Cos'è la lavatrice No No Fai la lavatrice 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 Non ti distrarre Non lo so Non lo so Non lo so Non so neanche che cosa sia Via Torna 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 Lavatrice Secondo me Ok Freezer No 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 Allora lavatrice Freezer Vai Ok Bravissima Lavatrice Freezer Internet Non ce la faccio C'è qualcuno che sta navigando Dove non può andare Lavatrice Premi Vasca 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 Maledetti Non è che c'è qualcuno No 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 Torna 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 Ok Non ti distrarre da cose che non sai se ci sono Torna freezer secondo me Lavatrice Vasca Non ce la faccio più Non ce la faccio più Sei al record Sei al record Sei al record Forno 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 Maledetto Internet Ok Basta Ok Il mio cervello non sta funzionando Stef Non sta più funzionando No safe Io schiaccio 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 Freezer Internet Ok C'è sempre qualcuno qua Ok Forno 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 Acqua Ok No Follia pura sto gioco Stef Follia Forno No Internet Non mi dire forno Se non c'è il forno Mi metto in forno Di controllare la matrice Sei a 30 eh Sei già a tre sopra il mio Ok E ancora tutti vedi 31 No Freezer Non mi rovinerà il record Maledetto Maledetto schifoso Internet Calma 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 Freezer Vasca Guarda Nella vasca sono terribili Velocissimi Annnegano subito Ok Internet velocissima E torna nella vasca Ok ok Forno 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 Vasca vasca ci muore Ok Lavatrice No Sto cliccando qua da casa E comunque non è ancora morto uno Lo sa Lo sa Lo sa Freezer Ok E lavatrice di sicuro Lavatrice Ok Freezer Ok forno no Forno no Internet Internet Ok Internet è lento Quindi per fortuna è rimasto lento Sì 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 Guarda lì Guarda lì Lavatrice Te lo dico Te lo dico Sto per mollare Sto per mollare Non ce la faccio più Freezer Ok Tutti a posto Tutti vivi Stati tutti bene Brutti figli E tu te lo sei meritato Però te lo sei meritato Magari così non ci tornano per un po' lì Te lo sei meritato Guardate cos'è successo Quindi non fatelo Freezer Non si va nel forno Sono già ripartiti Non si va nel forno Che sì non li ferma nessuno Beh l'altro Forno Forno Freezer Lavatrice Acqua E un affogato Cioè Forno Cioè sono Unstoppable Cioè non so più dove devo guardare Non ce la faccio più Steph Non ce la faccio più Non ce la faccio più 38 Sei vicino al 40 Ormai facciamo il 40 No non ce la posso fare Internet Non ce la posso fare Ok Vai Lavatrice Freezer Forno Vasca Ok 39 Ne manca uno Lavatrice Freezer Forno Vediamo internet Ok Ok secondo me lavatrice Freezer Ok freezer Lavatrice Che salvataggio Sono il genitore perfetto Steph sono il genitore perfetto Forno non c'è nessuno Anche se vedo qualcosa di bruciacchia È andato Ma dove sei morto brutto Non lo sappiamo Non lo sappiamo Lurido Non lo sappiamo mai Ok Basta Non me lo far mai più giocare Steph ha fatto 27 Fare 40 Con il grande aiuto di Steph Bisogna ammetterlo Però comunque 40 Eh però c'è C'è una bella difficoltà Anche se ti urlano le cose Ti assicuro che ti confondi di più Piuttosto Gioco Davvero semplice Ma carino Speriamo comunque che il video vi sia piaciuto E ci fermiamo Così Ciao ciao